Cassaro, scoperta struttura turistica allacciata abusivamente alla rete elettrica. Una intera struttura turistica comprensiva di camere e ristoranti è risultata allacciata abusivamente alla rete elettrica. I carabinieri di Cassaro hanno chiesto l'intervento dei tecnici dell'Enel, i quali hanno accertato, unitamente ai militari, l'allaccio abusivo della struttura e dell'abitazione privata annessa mediante collegamento diretto con l'illuminazione pubblica. Il danno economico per la società elettrica è in fase di quantificazione, ma nel frattempo il titolare dovrà rispondere di furto aggravato, reato per il quale è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa. I carabinieri della stazione di Rosolini hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catania a carico di un uomo del posto già noto ai carabinieri per i suoi numerosi precedenti. L'uomo è stato raggiunto dall'ordine di carcerazione a seguito di una condanna per rapina e lesioni, per cui deve scontare due anni e sei mesi di reclusione. Una volta rintrecciato è stato condotto dai carabinieri presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa, dove permerrà per tutta la durata della pena.